Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, guarda, fagli un nodo. Grazie a tutti. Allora, adesso lei prima di andare via, per favore, ci dà dei dati, perché noi dobbiamo compilare una scheda di rapportini, quindi, in qualche maniera, perfetto. Ok, ci mettiamo lì, magari se ha da bere, gli diamo da bere al cane. Grazie a tutti. Ok, ok, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.